Che poi? Io voglio essere sincero, con quelli come voi non ho assolutamente niente di personale, mai avuto odio, mai avuto rancore, anzi, quando andavo a scuola avevo un compagno di banco che era uno come voi, ho avuto perfino una donna, un amante che era come voi, e il mio primo posto di lavoro l'ho avuto grazie a uno come voi, un amico di famiglia. Quando mi invitava a pranzo a casa sua servivano ana traspeziata e da una parte c'era un grammofono. Io in casa mia non avevo mai visto un grammofono, né avevo mai mangiato l'ana traspeziata. Mio padre nella vita era uno che non aveva assolutamente compicciato niente, quando andavamo in giro andavamo a stare in pensioni di quarta categoria. E dentro di me dicevo, quando io diventerò grande sarò uno che invece fa la bella vita, sarò uno che non va a dormire in pensioni di quarta categoria, ma negli hotel dove il portiere indossa la livrea. Sì, io ho fatto carriera, ho speso tutta la vita a fare carriera, e l'ho fatta. Poi certo l'incidente di percorso è stato che pur di far carriera ho dovuto occuparmi di quelli come voi, ma è stato, ripeto, un incidente di percorso e soprattutto niente di personale, nessun odio, nessun rancore. Si figuri che io nelle SS ci sono entrato senza sapere neanche bene cosa fossero. Neanche di Hitler sapevo bene chi fosse. Sapevo soltanto che era uno che in piazza, quando faceva i comizi, aveva una gran forza. E ti sembrava sempre che la tua vita di merda potesse essere un po' riscattata da quella forza di quell'uomo che parlava là sul palco e che ti sembrava potesse prestarti un po' della sua forza per renderti migliore. Io fui uno di quelli. Entrai nell'SS e capì ben presto che se volevo far carriera, se volevo diventare qualcuno e non andare nelle pensioni di quarta categoria, dovevo occuparmi di quelli come voi perché lì si poteva far carriera. Detto questo, ripeto, niente di personale, anzi, quando mi dissero, e mi ricordo il giorno, che si era deciso di farvi tutti fuori, beh, io trovai che la decisione fosse piuttosto discutibile. Proposi un piano alternativo, dissi, ma perché non li prendiamo e li mandiamo tutti nel Madagascar? C'è un bel clima nel Madagascar. A mio parere sareste stati bene nel Madagascar. Invece no, invece decisero di farvi morire tutti. A quel punto mi ricordo che feci due pensieri. Il primo, dissi che la macchina del Reich era talmente grande che anche se io non me ne fossi occupato, sicuramente ci sarebbe stato un altro che avrebbe preso il mio posto. E quindi a cosa serviva farmi indietro, se poi tanto il risultato sarebbe stato lo stesso? E la seconda cosa che pensai, pensai che comunque, in fin dei conti, io non avrei mai ucciso nessuno. Non mi sarei mai macchiato le mani, no? Io sarei stato uno che firmava delle carte, che firmava dei documenti, che autorizzava delle cose, che faceva partire dei treni, ma io non avrei mai ucciso nessuno. E così è stato. Io non ho mai ucciso nessuno. Mi sono occupato soltanto di renderlo possibile. E dirò di più. Ho anche avuto, a mio parere, dei momenti di umanità e di rispetto nei confronti di quelli come voi. Beh, accadde per esempio quando a un certo punto mi dissero che dovevo andare in Polonia, che c'era un tizio che stava conducendo un esperimento interessante. Allora andai, mi presentai, mi dissero che avrei dovuto farmi trovare fuori dall'hotel la mattina presto, mi vennero a prendere, mi portarono in un posto lontanissimo, in mezzo alla foresta, c'era una specie di padiglione. Entrammo dentro, pioveva dirotto. E dentro il padiglione c'era una grande, enorme cassa, grande due volte la mia statura, davanti una poltrona, per me, con un tavolino con della frutta. C'era un tubo che partiva dalla cassa ed arrivava al vecchio motore di un sombergibile. Lo misero in moto, faceva un grandissimo rumore. Non so cosa accadde, so soltanto che un tizio aveva il cronometro e misurava qualcosa, poi si fece silenzio, aprirono la cassa e con grande soddisfazione mi fecero vedere che c'erano dentro delle capre, morte. Il tizio si avvicinò, mi disse, come vede il mio esperimento è formidabile, attraverso l'uso del gas noi riusciamo ad uccidere qualunque forma di vita in pochissimo tempo e questo comporterà per il RAIC un grandissimo risparmio di energia, di uomini e soprattutto di risorse economiche. Trovai la cosa agghiacciante, credo di essere uscito a vomitare addirittura e quando tornai in treno non firmai il documento, non avrei mai autorizzato quella barbarie. Poi dopo circa un mese mi mandarono in un altro posto, in Bielorussia, al Minsk. C'era un militare che si vantava di aver trovato un'altra soluzione. Mi misi a guardare, lui prendeva tutti quanti quelli come voi, li metteva in fila sull'orlo di una fossa comune, aprivano il fuoco, cadevano all'indietro e faceva gettare della terra. C'era già un'altra fila, facevano fuoco, cadevano all'indietro e gettavano della terra. E così via, continuando davanti ai miei occhi, fino a quando il livello della terra non fu totalmente pari con ciò che stava intorno. A quel punto ci portarono a controllare e camminando mi resi conto che io avevo le scarpe sporche. Non ho mai sopportato avere le scarpe sporche. Mi chinai con il fazzoletto per pulirle e fu in quel momento che mi resi conto di cosa erano sporche. Dalla terra, come uno zampillo, veniva fuori il sangue. Ne rimasi totalmente allibito e decisi che, fra le due cose, il gas era decisamente una soluzione più umana. Per cui quel giorno firmai il documento ed è così che da quel punto in poi, nei campi di sterminio, sotto mia autorizzazione, si è usato il gas per uccidervi. Dal momento che dovevate morire tutti, era sicuramente un modo che escludeva sofferenze inutili. Ma ripeto, fra me e voi niente di personale, nessun odio, nessun rancore. Quello che ho fatto l'ho fatto soltanto per far carriera. Era lavoro. Non c'è altro. E questo è tutto. Grazie Stefano. Devi dirci di chi sono queste parole. Queste sono parole di Adolf Eichmann, colui che ha reso possibile, che ha reso un fatto storico lo sterminio di milioni di ebrei. Ed è una deposizione incredibile la sua, che avviene negli anni Sessanta, dopo che Eichmann viene arrestato e portato in Israele, è sottoposto a un processo e rilascia una lunga deposizione da cui è tratto quello che vi ho appena detto. Hai scritto un libro con Fandango Eichmann, dove inizia la notte un dialogo tra Anne Arendt, che era lì ad assistere al processo di Adolf Eichmann, che scrisse la banalità del male, e Adolf Eichmann per Fandango. E' un libro bellissimo, bellissimo perché è tratto tutto quello che dice Eichmann e le sue parole sono tratti da documenti ufficiali. Eppure oggi esce un documento di Eurispes che ci dice che si moltiplicano in Italia coloro che pensano che l'Olocausto non sia esistito. Io credo che non sia esistito l'Impero Romano, non sia esistito Carlo Magno, non sia esistito Napoleone Bonaparte, credo che non esista Corrado Formigli, credo che non esista Stefano Massini e credo che non esista nessuno di quelli che sono qua. Stefano Massini, grazie!